Tra il comune di Salerno ed RFI sono intercorsi rapporti finalizzati a definire l'assetto proprietario delle volumetrie interessate dal progetto di realizzazione dei box interrati in piazza Cavour sul lungomare per le quali l'amministrazione avanzato richiesta di acquisto. A seguito di tali interlocuzioni RFI ha autorizzato la procedura di vendita. Lo Stato attuale, la società Ferservizi per conto di Rete Ferroviaria Italiana sta curando tutte le lavorazioni propedeutiche per la stipula dell'atto notarile di vendita. Sono in corso i certificati di destinazione urbanistica delle aree in parola. E' questa la risposta ufficiale con la quale Rete Ferroviaria Italiana chiarisce la sua posizione in merito all'intoppo burocratico che da mesi tiene fermo il cantiere per la realizzazione di box interrati in piazza Cavour imprigionando il lungomare di Salerno nella sua parte centrale di fronte alla sede dell'amministrazione provinciale in un cantiere infinito. La dichiarazione in base alla quale sono in corso di rilascio certificati di destinazione urbanistica delle aree dove un tempo passavano i binari del trenino merci che collegava lo scalo portuale al centro della città e alla stazione ferroviaria, rimossi da tempo ma rimasti di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana, fanno presagire una risoluzione definitiva e a breve dell'annosa vicenda. Una volta risolta la questione che consentirà al comune di Salerno e all'impresa che sta realizzando i box di essere effettivamente proprietari dell'area dove si stanno facendo i lavori, il cantiere potrà essere definitivamente ultimato. Da tempo era in corso un lungo braccio di ferro sulla possibilità di cedere al comune di Salerno tutta la linea ferrata con un esborso importante, però la trattativa ha messo sul piatto anche alcune stazioni della metropolitana da cedere alle ferrovie per avere in cambio la proprietà dei binari. Anche se non si conoscono i termini della trattativa, la nota di RFI conferma che l'intoppo è stato superato e che siamo nella fase definitiva per il passaggio della proprietà della zona tracciata dai binari al comune di Salerno.